Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Finalmente vi presento nel video Cosa Ne Penso, vi ricordate precedentemente avevo fatto l'unboxing, Company of Heroes, il board game, il gioco da tavolo, gioco, controparte videoludica, a cura di Relic e Siga, e in questa versione qui davanti che vedete della Bad Cross Games. Il board game che ha avuto un successo stratosferico su Kickstarter, hanno fatto veramente milioni di supporters e aveva tantissimi stretch goal che come vi ricordo in questa edizione che vedete qui davanti, il gioco di base senza gli stretch goal degli edifici e cose del genere, è il gioco comprensivo di quattro eserciti che sono gli americani, gli inglesi, i russi e i tedeschi, mentre invece nel gioco di base comprato su Kickstarter nell'edizione da due giocatori e non da quattro c'erano americani da una parte e tedeschi dall'altra. Ed è un gioco famosissimo, tutti quanti lo conosciamo, non mi nascondo a livello di strategico il più bello mai creato dalla Relic, che sono gli stessi di Warhammer Dawn of War, di Warhammer 40.000, altro capolavoro, ma Company of Heroes ha delle meccaniche e sta per uscire soprattutto anche il 3 che lo renderà una specie di anche gioco 4x o 4x, perché dì si voglia, perché ci sarà davvero una mappa vera e propria da tenere e da conquistare, ed è un gioco spettacolare, veloce, immediato, semplice, ma a livello di tattica e logistica molto complesso, infatti i più grandi tornei del mondo vengono fatti appunto su questo gioco. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Company of Heroes, il board game a cura della Bad Cross Games, è un prodotto uscito da un Kickstarter. Io spero e me lo auguro, anche per me stesso mi interesserebbe rivedere un italiano, ma soprattutto per tutti voi, di rivederlo portato in Italia da chiunque e tradotto completamente in italiano, perché al momento, vi lascio comunque il primo link in descrizione col sito ufficiale per andare a vedere tutto, ma era un prodotto uscito unicamente da una campagna Kickstarter, quindi non c'è una versione retail, almeno per il momento, ma io penso di sì. C'è un mostro di capolavoro, di gioco del genere, la scatola che manco si chiude, dalla roba che c'è dentro, deve arrivare su tutte le tavole. E' il gioco proprio ufficiale della saga di Company of Heroes e andate a rigiocare con le stesse meccaniche, ovviamente penso non ci sia bisogno di più chiarimento, di cose più esplicative, si cerca un attimino di limare le regole che sono del videogioco per mettere in un board game, perché ovviamente tutta quanta la parte di evoluzione, costruzione delle truppe, level up, quello deve essere più immediato, perché come dico sempre, in un gioco come Warcraft, se te fai il board game di Warcraft, Warcraft è un click per fare una truppa, è un click per fare un level up, è un click per spostare un'unità, qui non c'è questa interazione, e cercare di riprodurlo uno a uno sarebbe semplicemente fare un gioco macchinoso e troppo lento, quindi alcune meccaniche sono state riviste. La mappa è divisa in esagoni, come a breve vedrete dalle immagini, e in questi esagoni le truppe si possono muovere di tre esagoni ogni turno, perché praticamente la partita è divisa in varie sottosezioni, che sono la fase di movimento, la fase di danno, che sarebbe la fase di attacco, e la fase dopo di raccolta risorse, level up e creazione di nuove truppe. Si parte all'inizio del gioco, da ognuno ha la sua metà campo, dove si vanno a sponare, o per meglio dire, a generare le truppe di partenza, che di solito sono la fanteria, e tutt'al più una gipina Willis, o una Kubelwagen per i tedeschi, però senza carri armati e cose del genere. Fanteria regolare, non MG42, unitanti, carro col bazooka, panzer, shrek e cose del genere. E la mappa, come vi dicevo poc'anzi, è divisa in esagoni. Ciascuna truppa si muove di tre a round, che praticamente il round è una sottoparte del turno, infatti ciascun turno è diviso in tre round, e una truppa si può muovere fino a tre caselle massimo, a differenza delle unità leggere, tipo praticamente le Kubelwagen e le jeep, che si muovono di una casella in più. Quindi per far vedere che si muovono più veloci sul campo, invece di muoversi di tre, si muovono di quattro. Ciascuno muove le sei truppe, io muovo queste, con i punti azione. Perché ovviamente ciascuno di noi ha tot punti azione da spendere per ogni round, che sono tre. Quindi puoi muovere una truppa di uno, oppure puoi muovere la stessa truppa di tre, oppure puoi muovere questa di due e il carro di uno. Quindi decidi te. Ciascuno muovimento un punto azione. Non ci pensate per ora alla battaglia, alla fase successiva. Finiti questi tre round, che sono delle sottocose del turno, finisce il turno. Tutti quanti i giocatori ovviamente hanno finito il turno a posto in contemporanea, perché è un gioco in contemporanea. Ti hai fatto le tue mosse e lui nel frattempo fa le sue, così ti potrebbe bloccare anche un'avanzata volendo. Finite queste mosse, qui si va alla fase di danno. Andando alla fase di danno si prende, non si tirano dadi in questo gioco, o meglio, non si tirano per attaccare, si tirano per difendere, che è una meccanica che mi piace molto. Si prende il dado, nel caso della fanteria, e si mette magari dado della fanteria su un'altra unità di fanteria nemica. Ora c'è una tabella che ci fa vedere le resistenze delle truppe, o meglio, un'unità di fanteria normale, appiedata, si può difendere soltanto, a meno che non si trovi dentro un edificio, perché un edificio o un muretto ti dà sempre protezione, o anche il rottame di un veicolo dove vi siete rifugiati dietro, la fanteria si difende soltanto dai colpi AP dei carri pesanti, quindi dai colpi a perforazione che non essendo HE non fanno esplosione, quindi è un colpo che va a perforare e a distruggere, non ha un innesco, un'esplosione come un colpo HE, e quindi la fanteria può, un attimo, abbassarsi per terra, però contro altre unità non ha difesa, quindi se un'unità di fanteria attacca un'altra unità di fanteria, quell'unità di fanteria subisce un danno, si subisce sempre un danno da chiunque, almeno che l'unità non abbia vari tipi di dado. Se un'unità, ad esempio, un carro leggero, un blindato leggero, ha sia attacco con la mitra elettrice pesante, che attacco con un'altra arma, allora quell'unità subisce due danni. Se l'unità ha una resistenza a quel tipo di attacco, nel caso un carro armato ha resistenza dal colpo di un altro carro armato, si prende lo stesso dado che ci è stato affidato per l'attacco dal nostro avversario, e si tira. Se esce un valore di un colore, che il valore del colore dovrebbe essere il bianco e il nero, vuol dire che la ferita è stata affermata. Se esce un disegno con un colore rosso, vuol dire che non l'abbiamo bloccata ed entra il colpo. Vi ricordo che, a parte i carri, ovviamente, tutte quante le truppe hanno nella loro scheda in alto, segnato in alta a sinistra, la vita. Quindi la fanteria magari ha 4 di vita, voi prendete un 3, ci mettete 4 fanti, ogni volta che subite una ferita, levate uno meno. Sembra di giocare Warhammer, per farvi l'esempio. Molto, molto semplice. Quando l'unità rimane a zero, è distrutta. E il gioco è in contemporanea, perché se te distruggi la mia unità, cioè te spari, mi fai due danni, perché me l'attacchi con una truppa che fa due danni, o con due truppe differenti, e me l'ammazzi, uccidendomela, ma hai distrutto l'unità, ma io non la levo subito, eh. La mia unità può ancora fare la sua azione, perché se la mia unità doveva sparare alla tua, comunque ti sparo, e potrei distruggere alla tua. Se la mia unità doveva sparare a un'altra unità, non eriti il target, comunque la mia azione la devo fare, perché appunto, per andare a simulare che il gioco è in contemporanea. E poi, come, nelle classiche fasi un po' più avanzate di Company o Virus per il computer, il videogioco, si devono andare a conquistare punti di interesse per prendere carburante, munizioni, punti di interesse importanti che ci consentiranno di fare level up, semplicemente guardate cosa ci vuole per fare level up della truppa e girate la scheda dall'altra parte, truppa potenziata, o semplicemente per guadagnare punti vittoria, perché dopo 8, 10, 12 turni, decidete voi, insomma, quanti ne volete fare, si consiglia per le prime partite di farne 8-10, come dice il manuale, finiti quei turni si fa il conto di punti vittoria. Chi ha più punti vittoria ha vinto la partita. Quindi, come vedete, è semplicissimo, no? In conclusione, questo Company o Virus, il board game, è spettacolare. Veramente, ragazzi, è una via di mezzo fra un gioco più strategico e un gioco di schermaglie, come ad esempio Bolt Action, o un gioco di battaglie campali su larga scala, invasioni, tipo il classico sbarco in Normandia di Flames of War. Quindi, è una via di mezzo. Chi non vuole il gioco deve prendere le miniature, troppe miniature, colorarle, dipingerle, e assemblarle, lo vedete tutto, perché le devi montare. Company o Virus, ragazzi, è perfetto. Fonde tutte quante le meccaniche di un gioco strategico a un gioco skirmish, quindi un board game. è veramente perfetto per tutti gli amanti del genere, ma fidatevi, non vi è piaciuto il gioco per il computer o non siete fanatici comunque o della Seconda Guerra Mondiale come il sottoscritto, prendetelo, perché è un gioco strategico che vi farà divertire da morire e vi, c'è il booklet dentro, vi rimanda in tutti i più grandi panorami della Seconda Guerra Mondiale, è uno spettacolo, e tornassi indietro avrei fatto il Kickstarter completo, non solo della scatola da quattro, il Kickstarter completo perché c'erano anche gli edifici, cioè non gli edifici in cartoncino scenici, cioè c'era la chiesa era alta così, delle cose veramente spettacolari, consigliatissimo, passate appena i voti, primo link in descrizione per andare sul loro sito, io non penso che sarà venduto a parte perché era solo un Kickstarter, ma spero veramente di sì, non mi sono documentato, metto le mani avanti, perché ragazzi è un prodotto così, lo dovete avere tutti, per me non deve essere un prodotto relegato unicamente ai baker di un Kickstarter, è veramente la perfezione, più bello non lo potevano fare, capolavoro. Ciao ragazzi, alla prossima!